Si chiama Pasqualino Folletto ed è un magazzineri incensurato di 46 anni. E' lui che la mattina del 4 luglio scorso è entrato nella tabaccheria di Via Volta ad Asti, intorno alle 7.30 del mattino, ed ha ucciso la proprietaria 53enne Maria Luisa Fassi con 40 coltellate. L'uomo, la cui situazione economica e familiare è piuttosto delicata, anche a causa del vizio del gioco, ha ucciso la donna nel corso di una rapina finita male. La notizia è stata diffusa nel tarto pomeriggio di venerdì 24 luglio dai carabinieri del comando provinciale di Asti. L'arresto dell'uomo è stato frutto di un meticoloso incrocio di numerosi elementi investigativi, immagini estratte dalle telecamere cittadine, attività tecniche di sorveglianza dinamica, nonché numerosissime testimonianze. Luciano Tarditi, il sostituto procuratore che si è occupato direttamente dello svolgimento delle indagini, ha affermato che l'assassino al momento della confessione era un uomo disperato. Il magazziniere era finito al centro dell'attenzione dei militari, in quanto la sua vettura era stata notata dalle telecamere di sicurezza di fronte alla tabaccheria dei via Volta all'ora dell'omicidio. Il particolare, che ha diretto i sospetti verso Pasqualino Folletto, era la posizione dell'auto. Il mezzo era infatti parcheggiato in senso opposto a quello di marcia, in maniera che la portiera del guidatore fosse davanti al marciapiede. Inizialmente l'uomo ha negato la sua presenza nella zona, ciò ha insospettito maggiormente gli inquirenti, che hanno intensificato le indagini nei suoi confronti. Sul comportamento dell'uomo si esprime anche un suo collega, che lo descrive come il classico lavoratore molto legato alla famiglia e con qualche debito. Pasqualino, continua l'amico, la mattina del 4 luglio era arrivato a lavoro un po' tardi. Si giustificò affermando di essere rimasto addormentato. Lui abita al primo piano dello stabile della ditta. Nessuno l'avrebbe visto uscire e rientrare, per cui non capisco perché avrebbe dovuto mentire. L'uomo, dopo la confessione, ha indicato i carabinieri la zona in periferia di Asti, in cui si è disfattuto del coltello utilizzato per uccidere la tabaccaia. Piero Fassi, padre della vittima, non riesce a darsi pace, ma ha anche affermato di provare una grande pena per la famiglia dell'assassino di sua figlia. Tale sentimento ha portato la famiglia Fassi ad affermare di essere disponibile ad aiutare la famiglia dell'assassino. Sulla risoluzione dell'omicidio si è espresso Fabrizio Brignolo, primo cittadino del capoluogo astigiano, che esprime un sincero ringraziamento ed apprezzamento verso i carabinieri e tutti gli investigatori che hanno lavorato con dedizione e senso del dovere per risolvere questo delicato caso. Il sindaco ha anche auspicato che la stessa fiducia riposta dagli astigiani nelle istituzioni possa quanto prima portare alla scoperta dei responsabili degli altri precedenti delitti per poter garantire anche alle altre famiglie il diritto alla verità. Pasqualino Folletto, il cui arresto è stato convalidato venerdì sera, è rinchiuso nel carcere di quarto di Asti.